Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi apriremo Lego Disney la fattoria di Topolino e Paperino No vabbè ma è bella la fattoria di Topolino e Paperino Sì l'Umba è bellissima Questo giocattolo è consigliato solo ai bambini dai 4 anni in su Mentre questo giocattolo non è consigliato ai bambini dai 0 ai 3 anni Dentro lo troveremo Topolino, Paperino, il cavallo, la gallina, il coniglio, la pecora E tutta la fattoria E ora apriamo questa scatola, dai dai Wow quanti pezzi ci sono Sì Zait sono proprio tanti Iniziamo a montare i personaggi D'accordo mettiamoci all'opera Et voilà abbiamo costruito Topolino e Paperino E sono venuti tutti e due molto belli Mi piace un sacco il modo in cui li hanno inventati Lego di Topolino E ragazzi immaginatevi quante storie potrete inventare con il Lego di Topolino Va bene basta parlare e montiamo la fattoria D'accordo dai ragazzi mettiamoci all'opera Et voilà abbiamo finito di costruire la fattoria di Topolino e Paperino Ed è venuta proprio bene vero? Sì è venuta proprio bene Anche a me mi è piaciuto Allora voglio dirvi una cosa Allora Lego Disney la fattoria di Topolino e Paperino E gli altri Lego Disney di Topolino che abbiamo montato Commemorano il centesimo anniversario della Disney Sì perché la Disney ha compiuto 100 anni Allora ragazzi mi raccomando Taggate su Instagram cosa ne pensate di questo unboxing E mi raccomando mandateci tutti i vostri disegni Ebbene ragazzi il video finisce qui Mi raccomando fateci sapere se Lego Disney la fattoria di Topolino e Paperino vi è piaciuta Lasciate tanti like e tante visualizzazioni E noi ci vediamo alla prossima Ciao amici